grande fratello vip 6 tutta la verità sul triangolo amoroso in questo appuntamento con il grande fratello vip 6 alfonso signorini ha fatto iniziare la puntata immediatamente con il triangolo amoroso tra alex belli delia duran e solei sorge qualche giorno fa i viponi hanno organizzato una festa tribale delia e solei si sono fatte prendere dalla gioia del momento e si sono lasciate andare ad un bacio molto appassionato in giardino sotto gli occhi attenti di alex e katia ricciarelli che hanno osservato tutto da dentro la sauna belli sembra aver apprezzato molto quello che è successo mentre la cantante lirica invece non ha condiviso affatto c'è chi come davide silvestri pensa che a questo punto siano tutti complici e non ci siano più vittime ma qual è la verità e soprattutto perché le due rivali in amore si sono baciate così appassionatamente solei ha spiegato che c'era molta negatività e probabilmente c'era bisogno di qualche vibrazione positiva delia ha provato a baciarla più volte ma lei non voleva fino a che poi non ha ceduto solei considera questo bacio come una sorta di pace ed infatti non ha provato alcuna attrazione fisica al contrario della duran che invece ha ammesso di aver sentito una certa attrazione e ammira l'anima interna e bella di solei sempre durante la festa tribale solei ha confessato ad alex belli di amarlo lei però durante la puntata ha spiegato di aver sempre detto di amare l'attore la concorrente ha infatti affermato di non aver mai negato o rinnegato questo rapporto chimico con alex solei ha detto di voler stare con alex ma sicuramente il loro rapporto era andato oltre e per questo c'erano dei sentimenti che lei non riusciva a capire e la portavano in uno stato di confusione belli dal canto suo ha spiegato di avere un amore totalmente viscerale nei confronti della ragazza sicuramente però è tutto diverso rispetto al rapporto che c'è con delia perché con la duran l'amore è indissolubile cosa ne pensa delia di tutto ciò la duran con gran sorpresa non si è innervosita come sarebbe capitato qualche mese fa ma ha ammesso di essere molto felice di aver conosciuto meglio solei e adesso le vuole molto bene intanto però la permanenza di alex belli nella casa del grande fratello vip 6 si avvia alla fine e dovrà lasciare la casa e le due donne in maniera definitiva ha capito che il suo amore per delia è più forte di tutto lei invece sicuramente sa che c'è un sentimento ma ha bisogno ancora di altro tempo di certo la duran non abbandonerà la casa per ritornare alla realtà con alex soprattutto adesso che lei è pur una finalista e può giocarsi il tutto e per tutto prima di andare via alex ha chiesto ad elia di rimettere la fede ma il conduttore ha bloccato tutto chiedendo alla coppia di risolvere le loro situazioni dopo il reality show solei invece non ha voluto nemmeno salutare belli perché pensa che lui sia tornato per riprendersi sua moglie ma invece avrebbe fatto tutt'altro facendo esporre soprattutto la sorge lui invece avrebbe voluto ancora maggiore tempo per poter recuperare il rapporto e il giusto equilibrio che cosa ne pensate del bacio di solei ed elia è stata un'azione mirata a fare ascolti a voi i commenti se il video ti è piaciuto metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti Ciao! 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 Ciao!